Musica Bisogna costruire un crescendo finché tu ti giri Lui non c'è più e la disperazione a quel punto è realistica Musica Però senza essere app La cosa difficile è ovviamente ricostruire tutta la fantasmagoria qua dentro Parlo app perché sono internazionale Musica Musica Diciamo che la battuta che gli faccio dire a Ciccio Salsiccio è complicato Cosa è complicato? Che vuol dire? Dove sei andato? Dove sei? Dove sei? Bravo Lino Quello è il suo segno caratteristico Ogni volta si deve concentrare lui fa questo Carmine Elia Il regista della Porta Rossa Non fa altro che prendermi in giro per questa menomazione Gli deve essere proprio disperazione E' lo sforzo enorme che stai facendo per far spaccare tutto capito? Cioccolata amore Bravissimo Io sempre urlo quando mi piace qualcosa Cioccolata L'ultimo turno Quindi oggi si mette la parola fine Perchè Perchè in fondo la verità è una sola La fine Non esiste Nosa Neudiamo Perchè Perchè Perchè